Ciao a tutti, oggi ho fatto un allenamento di rapidità analitica e di balzi in previsione della gara di domenica. Insomma, a ciacchi permettendo, dovrei scendere in pista a Monzerone. Sento proprio la necessità di spostare la soglia con una gara, quindi provando un'intensità attivamente maggiore che solamente la gara ti può dare. Per me è molto importante iniziare a gareggiare e esordire così presto, nonostante i problemi dell'inverno, perché effettivamente vengo da tre stagioni, tre sessioni, dove ho gareggiato molto poco. Per mettere un po' di tasselli, per riuscire a fare un esordio dignitoso, abbiamo fatto un po' di mix nell'allenamento. Ho semplicemente fatto un lavoro per svegliare il sistema nervoso, perché ovviamente la mia gara è una gara rapida, e quindi mantenere sempre il sistema nervoso attivo e aggiungere un po' di potenza con i balzi. L'obiettivo fondamentale di questo esordio è quello di mettermi nella condizione di poter lavorare bene in previsione di giugno, di luglio e di agosto, dove effettivamente entriamo nel più della stagione. Parto per questa gara senza grosse aspettative, non mi interessa il tempo, mi importa scendere in pista, stare bene, venire via senza dolori, senza fastidie per poter lavorare subito bene, e confrontarmi di nuovo con le mie avversarie francesi, che sono quelle che stimo di più. Incluciamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Un abbraccio! Grazie a tutti.